E' un'emozione che secondo me è difficile da descrivere perché poi io sembro tanto tranquilla però alla fine insomma mi emoziono come tutti, è un onore per me. Ilaria Bidini, giovane a rettina da sempre impegnata nella lotta contro le barriere architettoniche e anche contro il cyberbullismo, da oggi è cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. Una onoreficenza che il presidente Mattarella le ha riconosciuto per il coraggio e lo spirito d'iniziativa con cui ha pubblicamente denunciato i fenomeni di bullismo e cyberbullismo di cui è stata lei stessa vittima. Sono state dette delle cose parecchio forti a me, alla mia famiglia e anche al mio fidanzato purtroppo. Ilaria, affetta da osteogenesi imperfetta, viene offesa ormai da sei mesi sul suo canale YouTube. Atti persecutori è un reato molto grave anche nel nostro ordinamento giuridico però non ci sono gli strumenti quando questo reato viene consumato in rete per individuare con facilità il responsabile. E' uno che mi invidia sicuramente perché sono riuscita ad ottenere delle cose che non tutti magari riescono ad ottenere, la felicità appunto e l'autonomia. Da persona disabile spesso non è facile perché si va incontro a tante barriere mentali e comunque fare quello che ritengo sia giusto fare e inseguire i miei sogni appunto.